Il dovere della memoria 1924-2024 Un omicidio di regime è il titolo del prossimo incontro un Alexio di Davide Grippa dall'Università degli Studi di Napoli l'Orientale in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura dal libro Giacomo Matteotti Vita e morte di un padre della democrazia edito da Treccani Quest'anno il festival ha aderito alla campagna Posto Occupato promosso da Soroptomist La Mezzia e dedicato a tutte le donne che subiscono violenza riservando questo posto che vedete sul palco a loro Potrete partecipare al racconto collettivo del nostro festival sui nostri canali social utilizzando l'hashtag trame13 Alla fine dell'intervento dell'incontro avrete a disposizione un po' di tempo per avanzare delle domande per fare qualche domanda Detto ciò vi auguro un buon incontro ancora grazie e buon proseguimento Buonasera Buonasera a tutti Allora intanto grazie all'organizzazione Trame grazie alla Treccani che mi hanno dato questa possibilità di essere qui a parlare di un tema di cui si parla molto in Italia il centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti e lì per lì quando la Treccani mi ha rivolto questo invito di istinto e di cuore l'ho accettato subito poi mi sono chiesto ma cosa c'entra Matteotti con le mafie con la lotta alla mafia queste erano le domande che mi ponevo e poi piano piano più ci riflettevo e più trovavo ovviamente con le dovute differenze dei punti di contatto intanto per le violenze che ha subito Matteotti quindi il primo elemento di contatto inequivocabile era la riflessione sulla violenza che caratterizza tutto il Novecento e Matteotti è uno come dire non voglio usare la parola martire perché ho provato a desantificarlo quindi ma è una di quelle persone che hanno speso la loro vita per battaglie politiche coraggiose vedremo vedremo come quindi il tema della violenza intanto univa le riflessioni sulla mafia alle riflessioni su Matteotti primo elemento il secondo elemento di riflessione era chi aveva ucciso Matteotti quindi il fascismo ormai lo sappiamo il regime fascista è coinvolto in questo in questo omicidio come il professor Mauro Canali nel diritto Matteotti ha ormai messo messo in chiaro è l'organizzazione criminale del fascismo quindi questo mi spingeva a fare delle comparazioni anche se io non sono uno storico della mafia ma come dire delle suggestioni cominciavano a emergere voi sapete che Mussolini già nei primi anni di governo crea intorno a sé una polizia politica segreta la cosiddetta cieca che sarà poi responsabile anche se per molto tempo è stata negata l'esistenza della cieca perché è un'istituzione ancora embrionale non era certo l'ovra non era ancora la polizia politica che poi prenderà corpo alla fine degli anni 20 e quindi anche questo aspetto di una violenza non spontanea come invece lo squadrismo agrario nel nord voleva far credere ci hanno voluto far credere che la violenza fascista lo squadrismo fascista fosse una risposta alla violenza socialista naturalmente questo è stato anche vero dobbiamo anche essere onesti ma è stato vero nel 19-20 nel 21 non lo era più diventava un pretesto per utilizzare in modo sistematico e strutturale la violenza e quindi questo è un elemento che Matteotti subito individua e subito denuncia e ci troviamo di fronte veramente a due antropologie irriducibili per quanto Matteotti avesse un'empatia straordinariamente umanitaria anche nei confronti dei fascisti io ho pubblicato questo piccolo libretto contro ogni forma di violenza riprendendo un suo testo una sua mozione alla camera in cui Matteotti in maniera in maniera molto onesta sostiene che i delinquenti stavano in ogni partito ma che la differenza tra la violenza socialista e la violenza fascista stesse nel fatto che la violenza socialista non era strutturale pensiamo agli scioperi pensiamo all'occupazione delle fabbriche moti spontanei naturalmente nel frattempo nel mondo c'era stata la rivoluzione russa del 17 quindi come dire non dobbiamo solo giudicare i contemporanei di quei fatti c'era davvero la paura della rivoluzione rossa quindi non è un elemento che possiamo sottovalutare naturalmente da storici da persone che provano a cercare la verità ma certamente non c'è quella organizzazione strutturale che c'è nel fascismo Matteotti questo lo dice benissimo in modo semplice quando in Parlamento a Giolitti e qui c'è un altro elemento che mi fa pensare Stato-mafia un grande problema le crisi delle istituzioni in alcuni momenti della nostra storia perché Matteotti ed è questa la ragione per cui io nel mio libretto mi fermo al 22 proprio per evitare di parlare del delitto perché i delitti fagocitano le persone azzerano le loro vite pensiamo a un altro grande delitto forse l'altro più grande delitto insieme a Matteotti al delitto Moro quanto ha fagocitato l'azione politica di Moro riducendola al momento del rapimento in maniera anche morbosa e alle lettere dalla prigionia ogni parola interpretata cioè ci faceva perdere quella prospettiva storica e soprattutto anche quel rispetto per le vittime da questo punto di vista un grandissimo storico francese che citerò un paio di volte perché ve lo consiglio se non l'aveste mai letto Marc Bloch uno storico francese forse il più grande storico del ventesimo secolo che partecipa alla prima guerra mondiale che muore fucilato dai nazisti il 16 giugno del 1944 Marc Bloch dice una cosa molto interessante nella pagina sui ricordi della prima guerra mondiale a cui partecipa mentre in guerra con i tedeschi scrive una cosa molto bella sulla memoria e quindi torniamo al problema la memoria a noi sembra una cosa facile invece la memoria è una cosa complicata il titolo che inizialmente mi sembrava enfatico il dovere della memoria in realtà ci rimanda alla dimensione dell'impegno è difficile ricordare bene ricordare si può ma ricordare in modo affidabile è difficile e allora questa paginetta di Marc Bloch senza ricorrere alle grandi teorie psicologiche neuroscientifiche ma questa esperienza di Marc Bloch su se stesso e queste riflessioni che fa ci aiutano a entrare poi sul tema Matteotti dice Marc Bloch ho avuto l'onore di partecipare ai primi cinque mesi della campagna 1914-1915 adesso mi trovo a Parigi in licenza di convalescenza e mi riprendo a poco a poco da una grave febbre tifoide che il 5 gennaio scorso mi ha costretto ad abbandonare il fronte utilizzerò il tempo libero per fissare i miei ricordi prima che il tempo ne cancelli i colori oggi molto freschi e vivi non riporterò tutto bisogna concedere all'oblio ciò che dispetta ma non voglio abbandonare ai capricci della mia memoria i cinque mesi straordinari che ho appena vissuto essa è solita fare del mio passato una cernita spesso poco giudiziosa si ingombra di minuzie senza interesse e lascia che svaniscano immagini di cui anche i minimi particolari mi sarebbero stati cari la selezione che essa compie così male voglio che questa volta sia rimessa alla mia ragione una pagina straordinaria la memoria l'atto di ricordare è un atto di responsabilità è un atto anche di libertà dobbiamo concedere all'oblio ciò che gli spetta ecco quindi ritornare a Matteotti ma non solo a lui pensiamo anche alle immagini televisive sulla mafia insomma ci sarebbe molto molto da dire quindi intanto dobbiamo saper selezionare se non lo facciamo spesso è la memoria che si impadronisce di noi e la questione si complica ulteriormente se a questo funzionamento della memoria ordinario ci mettiamo dentro l'elemento straordinario cioè la violenza quando gli individui subiscono violenze ricordano in modi particolari o a volte non ricordano proprio come già Freud ci aveva insegnato non c'è contraddizione anzi la vita psichica vive di contraddizioni quindi Freud lo diceva nell'introduzione della psicanalisi non c'è contraddizione su questo la rimozione o la fissazione in fondo non sono contraddizioni la nostra vita non è un sillogismo quindi queste divergenze tengono ma per tornare e complicare il quadro sulla memoria ecco che cosa invece dice Bloch quando vive l'esperienza della violenza in parte su di sé in parte quella sui suoi compagni e quindi come dire l'elemento del trauma entra e gioca un ruolo importante sulla memoria dopo una giornata che lui dice non dimenticherà mai in cui finalmente incontra il tedesco in cui l'ansia di guerra la droga passa e incontra i tedeschi e ci sono i primi morti tanti morti e dice Bloch è probabile che finché vivrò a meno di non terminare i miei giorni nella totale demenza non dimenticherò mai il 10 settembre 1914 eppure i miei ricordi di questa giornata non sono del tutto precisi soprattutto sono collegati piuttosto male formano una serie discontinua di immagini per la verità molto vive ma poco coordinate come una pellicola cinematografica che presentasse qua e là grosse lacerazioni e di cui si possano invertire alcune scene senza che uno se ne accorga questo è un altro straordinario momento di lucidità cioè noi crediamo che le cose che ci hanno impressionato di più emotivamente noi ce le ricordiamo bene non è così quindi il trauma e l'emozione rendono ancora più complesso è illusoria è autoingannevole quindi questa è una cosa che dico per invigilare me stesso ma noi diciamo che siamo qui a discutere di questi temi quindi la memoria è scelta ecco perché io ho provato nel mio contributo su Matteotti a uscire dal martirio e da questo punto di vista scusate se vi leggo dei passi ma mi sembra che possano anche meglio di me le fonti restituirci i problemi e invitarci a riflettere un altro gigante dell'antifascismo italiano Carlo Rosselli che fu ucciso il 9 giugno del 37 a Bagnol de Lorne insieme al fratello Nello dai Cagolard prezzolati fascisti francesi prezzolati dal governo mussolignano che cosa dice su questo tema del martirio e Matteotti come se Matteotti avesse voluto la morte una pagina secondo me bellissima una lettera che Carlo Rosselli scrive a Pietro Nenni commentando la morte di Matteotti tu mi parlasti una volta e in modo che mi commosse di Matteotti e mi dicesti che ti sarebbe piaciuto dar la vita per l'idea così come lui l'ha dette e ci trovammo concordi nel lamentare l'assenza totale di spirito di sacrificio e di sete di sofferenza tra i nostri amici anch'io spesso ho sognato di poter finire così utilmente la mia vita per una così grande causa ma badiamo bene di non fare anche della retorica su Matteotti Matteotti non voleva e non cercava la morte volle e cercò la lotta volle e cercò i posti di responsabilità nelle ore più dure seppe vincere tutti i giorni e perdere tutti i giorni la sua piccola battaglia scusate ammiro in lui la fede di tutte le ore la tenacia la costanza l'ottimismo contagioso il volontarismo sfrenato ecco quindi non non martirizziamo Matteotti nel senso Matteotti fu un lottatore un lottatore che voleva vivere dopo la prima aggressione che subisce nel 21 nel marzo del 21 dopo aver denunciato in Parlamento le violenze nel suo Polesine dove lo squadrismo agrario era particolarmente feroce Matteotti non torna più nel Polesine non è un martire capisce ama la vita adora Shakespeare ama viaggiare questi sono aspetti importanti perché il martirio è anche qualcosa di mortifero e invece Matteotti amava molto la vita e non torna più in Polesine perché evita di essere picchiato ma questo non gli impedisce di continuare la lotta è molto bella quella pagina di Rosselli amava la lotta quindi questo è diciamo il quadro dentro il quale mi voglio muovere e quindi non parlerò a meno che voi dopo non abbiate delle curiosità del delitto di Matteotti perché mi interessa di più vedere i problemi che la sua figura solleva altrimenti finiamo nel wireismo invece queste figure ci parlano dei grandi problemi che con la mafia hanno molto a che fare la crisi dello Stato in alcuni momenti noi non potremmo capire l'avvento del fascismo se in modo onesto non guardassimo alle responsabilità della parte della società italiana e della politica italiana Giolitti nel 21 alle elezioni del 21 fa entrare sdogani i fascisti nell'istone fascista nell'istone nazionale scusate e apre la porta ai 38 che poi diventano 35 perché 3 non si iscrivono al gruppo fascista ai 35 deputati fascisti che stravolgono il Parlamento il registro comunicativo del Parlamento che non era mai stato un luogo per fortuna pacificato perché il conflitto è parte della dinamica sociale della dialettica sociale ma non quello violento Matteotti è lì che insiste contro i fascisti voi glorificate l'assassinio dopo l'assassinio noi dopo l'assassinio ci scusiamo anche quando non siamo stati noi mandanti anche quando noi abbiamo professato sempre una formula stupenda più che Gandiana l'apologia della viltà la chiama lui perché anche la viltà dice Matteotti in alcuni momenti è un atto di eroismo è un registro antisuperomistico proprio agli opposti di Mussolini dove l'onore l'esibizione del coraggio non il coraggio che è un'altra cosa l'esibizione del coraggio il narcisismo di Mussolini è quello che attacca Matteotti ed è non è casuale che si infurierà con Matteotti perché Matteotti attacca la sua immagine Mussolini non si vuole vedere brutto e l'accenno al 24 faccio un accenno al 24 al famoso discorso del 30 maggio in cui denuncia le violenze ha questo significato oltre oltre a quello che starà preparando l'accordo con la Sinclair per il petrogio ma ha questo significato qua quindi siamo davanti a due antropologie veramente diverse che si vedono malgrado Matteotti non vedrà mai il fascismo come irriducibilmente nemico perché è un democratico e come tutti i democratici è un pluralista sempre quindi non a caso si scontra con tutti poverino anche in questo ricorda alcune figure epiche della nostra storia penso a Falcone Borsellino i più grandi casi ma ce ne sarebbero moltissimi altri Peppino Impastato da altre posizioni e c'è un aneddoto che vi voglio raccontare di Matteotti perché secondo me rivela tutta la sua personalità e tutta l'ideologia e la politica alla quale si contrappone e anche qui c'è una somiglianza a una analogia forte con la mafia la mortificazione dell'avversario l'umiliazione dell'avversario Matteotti lotta contro questo modo di fare politica dopo l'aggressione del marzo 21 si cominciano a spargere delle voci in Parlamento sadiche e squallide da parte dei fascisti che non vengono stenografate ma Matteotti le sente ronzare gli depositano lettere alla Camera ingiuriose che insinuano che in quell'aggressione del 21 abbia subito delle violenze sessuali di cui i fascisti si vantano perché avrebbero dominato e mortificato l'avversario e allora vi voglio leggere un pezzetto che ho pubblicato su questo Matteotti si scoccia di questo silenzio è un uomo diretto è un uomo non è un caso che il Parlamento sia il luogo in cui si esprime meglio è un uomo che ha fiducia nel logos non nella violenza nel dialogo nella parola non in quella retorica nella parola chiara nelle inchieste ecco un'altra un'altra analogia per i grandi magistrati italiani era uno che credeva profondamente nella verità ma nella verità fatta di ricerca di informazione di confronto e allora a un certo punto si stizzisce di queste voci non era uno che amava molto parlare delle violenze che subiva proprio perché era autoironico aveva un registro antieroico però a un certo punto si scoccia perché toccano la sua dignità e allora scrive questo no scrive scusate in Parlamento si alza chiede la parola dopo queste insinuazioni e dice questo non le ho udite personalmente queste parole e non le ho trovate nel resoconto stenografico potrei dubitare che non si tratti altro che dell'indecente costume del libello del senatore Bergamini ma poiché esse sono state più volte ripetute e in questi giorni ho ricevuto anche dalla posta della Camera alcune lettere anonime depositate da due non onorevoli colleghi e contenenti le stesse anzi maggiori turpitudini e oscenità conforme un nuovissimo costume entrato alla Camera per la prima volta in questa legislatura allora devo per conto mio apertamente dichiarare che accennano a cose perfettamente assolutamente false se fossero vere io stesso le avrei denunziate perché rappresenterebbero non la vergogna della vittima ma la vergogna di una fazione arrivata a tali estremi di beduina barbarie ma ripeto non sono vere fino a quel punto devo realmente dichiararlo non è ancora arrivata la barbarie agraria nel Polesine però il dirlo o il supporlo soltanto costituisce già una prova delle più basse e vergognose attitudini abitudini o capacità morali degli interruttori o degli anonimi ed io domando ad essi di uscire dalla viltà dell'anonimo di uscire dalla viltà dell'urlo di massa per assumere intera la responsabilità se ancora loro rimane alcuna dignità di uomini ecco questo era il registro di Giacomo Matteotti questo ci fa capire a che cosa si oppone Matteotti alla mortificazione alla violenza anche verbale ma usciamo dall'aneddoto e ritorniamo al problema no? che appunto a cui io ho voluto dar spazio parlano di Matteotti perché abbiamo avuto due grandi tendenze nella provare a ricordare Matteotti o schiacciati sul delitto quindi come dire una non prospettiva storica oppure tutto Matteotti indistintamente tutto Matteotti ma abbiamo detto che la memoria deve essere selettiva per avere senso semantico per avere significato profondo quindi anche quando sono state fatte in maniera dignitosa anche dal Parlamento negli anni 50 hanno pubblicato i discorsi tutti i discorsi parlamentari di Matteotti però questo tutti è di nuovo sicuramente incomiabile per certi aspetti ma ci impedisce di capire il senso di Matteotti io ho fatto la mia scelta può darsi che sia sbagliata però la mia scelta è stata la crisi dello Stato liberale italiano la responsabilità della Stato italiano nell'avvento del fascismo che sono state notevoli e non per rispolverare l'immagine del burattinaio perché il povero Giolitti o anche Bonomi o anche Facta hanno provato a dare istruzioni ai prefetti ma pezzi dello Stato non rispondevano ecco un'altra analogia con la storia della mafia non è tutto lo Stato perché è di nuovo l'indistinto l'indistinto non ha senso è privo di senso non ci aiuta a migliorare non ci aiuta a capire i prefetti a un certo momento e più che prefetti alcuni pezzi polizia e carabinieri non rispondono alle istruzioni del governo Matteotti lo dice lo dice chiaramente voglio darvi quest'attenuante non è il comunista socialista massimalista nichilista che vede lo Stato liberale come lo Stato borghese no Matteotti ha come fine una profonda trasformazione sociale certo ma non rinega mai il metodo democratico lo dice in faccia ai comunisti nel marzo del 24 voi siete per la dittatura delle minoranze noi no noi siamo per la libertà per il metodo democratico e per la formazione delle libere maggioranze tra noi e voi questo è il titolo dell'articolo non c'è niente in comune ecco perché contro ogni forma di violenza perché Matteotti si opponeva anche alla violenza di sinistra massimalista naturalmente il nemico non il nemico l'avversario politico perché Matteotti non è mai un nemico non usa mai questa parola e le parole sono importanti per Matteotti ma per tutti noi è un avversario politico non è un nemico e io ho trovato una fonte per esempio l'archivio centrale dello Stato in cui il prefetto di Alessandria pensando di discolparsi Matteotti scrive a Giolitti dicendo no ma non è vero che noi che pezzi dei carabinieri sono fascisti hanno smesso da un pezzo di suonare l'inno giovinezza cioè quasi tragicomico no? una missione una missione clamorosa e la cosa interessante è che Matteotti è il primissimo ad accorgersi ecco ma non è per una gara agonistica è perché attraverso Matteotti che continuava dal 1900 alla fine del 20 in avanti a dire a fare da specchio da coscienza allo Stato liberale non ci riesce ecco perché è interessante Matteotti perché ci permette di capire le ragioni per cui non ci riesce e la paura della rivoluzione è una ma la responsabilità dei governi è un'altra Giolitti era un uomo convinto che le forze sociali come era stato per la fine dell'Ottocento si sarebbero armonizzate da sole secondo un providenzialismo naturalistico che non aveva nessun senso ormai Bonomi pensava una pacificazione ma quando come diceva Matteotti ma come si fa a dire pacificazione il duce dice pacificazione e si alza un altro deputato e dice vendetta sono due parole dice che non possono stare insieme cioè Matteotti capisce subito che Mussolini gioca su due banchi e grandi statisti come De Gasperi non lo capiscono questo ci fa capire anche quanto fosse diffusa la paura di una rivoluzione quindi da questo punto di vista non è solo un giudizio moralistico è proprio un giudizio storico e devo dire De Gasperi dopo il famoso discorso di Mussolini nel novembre 22 quando dice che avrebbe potuto ridurre quell'auda sorde grigia a un bivacco di manipoli De Gasperi interviene dicendo il presidente del consiglio ha parlato in tono rude quasi rivoluzionario quindi se ne stava accorgendo e però abbiamo bisogno di un governo forte che restauri l'ordine colpisce questa cosa in un uomo come De Gasperi che sono i più grandi statisti italiani e avrà l'onestà negli anni fino agli anni 40 quando adesso sto studiando quest'altra cosa sull'apologia del fascismo quando Scelba vuole irrigidire la legge per reprimere le apologie del fascismo e il Parlamento i neofascisti gli dicono ma come voi siete democratici e fate una legge contro le opinioni politiche classico usano la democrazia e De Gasperi dice una cosa molto bella anche perché molto onesta dice non faremo come nel 22 quando abbiamo creduto che la libertà si sarebbe difesa da sola è una grande missione quindi vedete persino De Gasperi fa fatica a capire la novità del fascismo però Mussolini è entrato in Parlamento e nel novembre ha chiesto la legge sui pieni poteri e la legge sui pieni poteri in ambito amministrativo e fiscale ma come dice Matteotti con straordinaria intelligenza e con straordinario studio dice ma se voi togliete i parlamenti il potere fiscale come sono nate la rivoluzione francese quella americana discutendo di politica fiscale quindi come dire sono prerogative dei parlamenti quindi c'è una classe politica che non ha fiducia in se stessa nelle sue capacità di risolvere una guerra civile e che si affida all'uomo della provvidenza questa è una verità storica è inutile che vogliamo ma dobbiamo partire da lì dobbiamo partire dalla paura dei rossi che è durata moltissimo tempo è durata ancora ancora gli ultimi echi che io ricordo la storia di Berlusconi su questo tema no il pericolo del comunismo il pericolo quindi perché aveva delle radici profonde nella nostra storia nella storia del nostro paese quindi Matteotti ci aiuta a vedere tutti questi problemi la perdita del monopolio della violenza da parte dello Stato esattamente come succede con la mafia c'è una parte di società che usa privatamente la violenza e questo succede con la milizia fascista c'è un partito milizia che si sovrappone o che è parallelo come volete allo Stato e che usa la violenza contro una categoria di individui contro gli oppositori politici e questo è un altro grande problema che nella storia del nostro Stato noi ci portiamo dietro la mafia ma anche il delitto moro da questo punto di vista che non è solo il delitto moro ma che è una trasformazione del sistema politico che era quella che voleva anche Matteotti una trasformazione del sistema politico in senso progressista che non riesce perché è schiacciato ma stava per riuscire perché alla fine il povero Fakta che è passato come un presidente del consiglio debole in realtà ad un certo momento dice delle cose forti se riesco ve le leggo e assume esattamente il punto di vista di Matteotti cioè Matteotti in realtà perché c'è quest'altra grande cosa che Matteotti era un grande pacifista Matteotti si è opposto dalla guerra di Libia dell'undici finisce quasi in carcere per grida sediziose quando nel consiglio provinciale di Rovigo si oppone al finanziamento delle famiglie dei profughi una cosa che insomma fa effetto proprio per farvi capire quanto pacifista fosse Matteotti Matteotti trasforma il pacifismo in una strategia politica anche questo è un mito che dobbiamo smontare che il pacifismo sia puramente ideologico no il pacifismo può essere una strategia politica e lui la fa così Matteotti agisce così se noi non rispondiamo ai fascisti la smetteranno di dire che la violenza fascista è salvifica in quanto antisocialista antirivoluzionaria è una bella testa e se la prende con i massimalisti del suo partito in cui si scontra fisicamente per bloccarli però allo stesso tempo dice a Giolitti non sappiamo quanto riusciamo a tenerli fermi ancora quindi è una tensione continua quella di Matteotti si sente quando si leggono ma riesce piano piano a persuadere la classe dirigente del fatto che ci sono pezzi di Stato che sono conniventi e secondo me io qui cito infatti e poi chiudo il discorso di facta il secondo discorso di facta quando sembra davvero che quando sembra davvero che si possa reprimere il partito fascista quando finalmente i governi liberali danno quella stanzata che Matteotti sta chiedendo da un anno e mezzo se ne rendono conto anche loro quindi questo in parte di scoppa li de-responsabilizza se vogliamo e dice questo facta nel 22 nell'estate primavera estate due cose si ritengono assolutamente indispensabili dice il Parlamento provvedimenti legislativi che saranno subito presentati diretti a rendere più rapida ed efficace l'azione penale rigorosa vigilanza pronta azione verso tutti quei funzionari che si dimostrano inetti o dignavi il governo non può tenere intorno a sé né degli incapaci né dei pavidi qualunque disposizione per quanto dolorosa si impone quando il rendimento che si attende da un investito di delicato ufficio non è pari intellettualmente o moralmente ha fatto suo completamente la propaganda il pensiero politico di Matteotti tanto che va dal re ma il re non firma e un giorno bisognerà fare la storia di quella decisione perché se ne parla tanto ma una ricostruzione di quella decisione di Vittorio Emanuele III che avrebbe potuto firmare lo Stato d'assedio e quindi l'esercito contro la rivoluzione farsesca fascista avrebbe impedito l'avvento al potere di Mussolini non solo il re bisogna essere onesti anche i socialisti massimalisti perché quando Matteotti insieme a Turati finalmente si apre uno spiraglio per un governo popolare e i socialisti che avrebbe consentito all'Italia di far fuori i due grandi partiti di massa i fascisti appena Turati va a parlare con Vittorio Emanuele III i massimalisti e spellano dal partito l'ala riformista che è minoritaria e quindi nasce il partito socialista unitario che vedrà Matteotti segretario che nel 24 comunque prende il 5,6% quasi da solo quindi 24 deputati se non ricordo male però quindi come vedete non è molti hanno criticato Matteotti no no Matteotti perché da noi sembra che l'etica e la politica non possano andare insieme questo è un grosso limite è successo così per Enrico Berlinguer è successo così per Ferruccio Parri vengono santificati ma depotenziati politicamente è incredibile e quindi anche il senso di colpa viene attutito fortemente perché c'è no e in più ci sono i carnefici quindi i cattini sono lì i bravi sono lì e la politica continua la sua strada e questo come dire è un problema che da noi il paese di Machiavelli per quanto Machiavelli non fosse affatto un realista come si crede ma fosse un uomo di passione i Machiavellici più che Machiavelli abbiano come dire alimentato questo senso della politica e in realtà l'etica e la politica stanno insieme e questi straordinari politici stanno lì ad indicarcelo quindi il più grande lascito di Matteotti secondo me è proprio questo questa capacità di coniugare etica politica e pragmatismo Matteotti a differenza dei comunisti che si lamentavano tanto passava il suo tempo a studiare in giunta a fare i ricorsi con le commissioni parlamentari ha fatto annullare l'elezione di tale piccinato nella sua rovigo nel 22 con facta presidente primo governo povero facta distrattato quindi in realtà c'è azione politica nel 24 io adesso non so se dare ragione al nemico Mauro Canali che è anche un maestro sull'affare Sinclair ma poco secondo me adesso non voglio dire che poco conta perché sarebbe svalutativo nei confronti di chi l'ha studiato però dal mio punto di vista non dico che sia indifferente però ciò che il fascismo temeva era la capacità di raccontare la verità di Matteotti e di danneggiare l'immagine del fascismo dentro e fuori Italia perché c'erano pezzi di Stato che ancora non erano corrotti il primo processo Matteotti del 24-25 infatti porta subito all'arresto dei responsabili perché il presidente il presidente ancora De Nicola del Parlamento ci sono pezzi del liberalismo che sono incerti e su quelli lavora Matteotti non era detto che andasse così lo dice persino Marx che c'è sempre almeno una scelta lo fanno più determinista di quello che è si poteva scegliere allora allora è interessante capire Matteotti ce lo consente perché si sono fatte quelle scelte quali sono stati i problemi storici che hanno impedito di fare quelle altre il processo di Matteotti diventerà farsa nel 26 quando viene sottratto ai due magistrati precedenti e col processo di Chieti diventa una farsa ci sarà un secondo processo nel 46-47 l'amnistia praticamente libera tutti persino Amerigo Dumini che è la mente della cieca partecipa all'assassino di Matteotti è l'unico che paga un pochino però poi tra condoni grazie anche questo purtroppo fa parte perché se a questa mancanza di punizione si associasse un processo di ricerca della verità stile mandeliano sudafricano avremmo almeno un ritorno e invece non c'è stato né l'uno né l'altro hanno scarcerato praticamente tutti qualcuno era contumace si è dato alla fuga per cui alla fine anche da questo punto di vista hanno pagato un pochino sono veramente colpiscono le foto che Mauro Canali in maniera straordinaria ha messo qui nel catalogo della Tre Cani che fa capire la farsa più di ogni parola cioè vedere gli assassini di Matteotti con lo champagne in carcere è una cosa davvero disgustosa che fa capire più di ogni altro saggio quanto il regime fascista fosse compromesso vi ringrazio se ci sono domande o anche riflessioni non domande vostre io vi passo il microfono di là o riflessioni o osservazioni o notizie qualunque cosa ascolto volentieri prego prego allora io guardavo qui nel pubblico noi colleghi che abbiamo insegnato storia che assentivamo alle parole perché noi abbiamo spiegato storia nello stesso identico modo non con questa magari chiarezza con questa lunghezza poi ovviamente avevamo davanti gli alunni di 16 di 14 anni e però abbiamo cercato anche di riportare l'avvenimento la storia di Matteotti in questo modo questo di facta il riconoscimento invece di dell'azione di facta è stata la mia sorpresa e quindi sono contenta che si abbia dato giustizia anche all'immagine di una persona che è sempre stata riconosciuta come quasi colpevole di aver garantito l'avvento del fascismo come invece non fu da queste parole ecco come se fosse stato per l'unico responsabile cosa che non è perché inasprisci la storia è sempre un'immensa sorpresa perché è una continua interpretazione dei fatti che è imprevedibile è imprevedibile cioè noi non conosciamo il nostro passato allora conosciamolo meglio studiandolo e ascoltando queste lezioni così chiare e esaustive grazie grazie a lei che è il problema della memoria non conosciamo neanche la nostra memoria figuriamoci nel senso che dobbiamo impegnarci tanto per farlo questa è una cosa che a me Bloc mi ha trasmesso perché ci vuole veramente molto impegno per arrivare già alla propria verità di cose di cui abbiamo assistito noi di cui siamo stati figuriamoci le cose di cui non abbiamo avuto esperienza questo per esempio Walter Lippmann quando parla degli stereotipi che noi giudichiamo in base agli stereotipi ma non in senso negativo nel senso che noi vediamo un po' quello che già abbiamo conosciuto in qualche modo e quindi siamo un po' prigionieri dei nostri schemi ma non ne possiamo farne anche a meno quindi sottoporli a vaglio critico è una fatica notevole qualche altra domanda riflessione prego allora chi l'ha ucciso Matteo? allora la persona che l'ha ucciso sembra che sia stato Poveromo Poveromo era uno dei arditi milanesi insieme a Albino Volpi che facevano parte della cieca fascista fisicamente si dice che la cieca fascista ma si può dire in maniera abbastanza tranquilla rispondesse al capo ufficio stampa di Mussolini Cesarino Rossi su cui Mauro Canale ha dedicato la sua straordinaria primo lavoro storico Mauro Canale è un allievo di Renzo De Felice in cui si cerca di far ed è buono come di i pezzi alti diciamo questa era la manovalanza gli arditi gli arditi milanesi infatti Dumini nel testamento americano perché a un certo punto Dumini quando vede che il duce lo abbandona scrive un testamento e lo manda a varie persone tra cui anche i suoi avvocati perché lui era di origine americana manda questo testamento americano nel quale dice sì è vero noi l'abbiamo ucciso e poi scrive a Mussolini ricattandolo sappi perché ti stai comportando male che se mi succede qualche cosa c'è un testamento in mani sicure vedete di nuovo anche il ricatto il putridume morale il ricatto continuo Dumini scrive questo testamento dicendo sì è vero noi siamo stati gli esecutori materiali ma su commissione come di questo come di altri delitti quindi ammette l'esistenza della cieca in questo testamento americano e in più si autoaccusa nel processo Matteotti però secondo nel primo proprio niente nel secondo questo documento non arriva mai ai giudici quindi non si altrimenti sarebbero stati condannati per omicidio volontario già così Dumini e Poveromo prendono l'ergastolo che poi viene commutato in 30 anni però poi ci sono le amnistie eccetera eccetera alla fine fanno pochissima galera rispetto a quello che hanno fatto e Dumini muore nel 67 e muore libero dopo aver fatto 6-7 anni di libertà vigilata insomma questi fanno 3-4 anni di galera non di più quindi diciamo lo squadrismo l'arditismo milanese che aveva combattuto nella prima guerra mondiale che è uno dei filoni del fascismo sono diciamo il braccio armato di questa cieca che viene diretta da Cesare Rossi in combutta con Marinelli e il Corriere Italiano che era quest'altro luogo in cui sotto copertura lavoravano lavoravano questi che non erano certo dei giornalisti insomma ma era una copertura che gli veniva data e quindi a Matteotti quali erano le cose che gli contestavano allora sul movente sul movente del delitto prego sul movente del delitto ci sono diciamo diverse versioni c'è chi dice che il discorso del 30 maggio 24 successivo alle elezioni dell'aprile sia stato il motivo perché cosa fa Matteotti in quel discorso denuncia le violenze il clima di intimidazione in cui si sono svolte le elezioni quindi dice queste elezioni sono irregolari devono essere annullate o quantomeno la giunta delle elezioni come aveva fatto nel 22 le deve considerare caso per caso invece la giunta che è stata che era maggioranza della maggioranza vuole l'approvazione in blocco delle elezioni Matteotti in Parlamento e quindi di nuovo la responsabilità dei parlamentari non solo dei fascisti se no i fascisti diventano i carnefici e i cattivi e tutto il resto ma non perché dobbiamo darne le colpe perché dobbiamo fare i conti col passato solo per questo in maniera onesta quindi c'è chi dice che sia stata questa denuncia di questi brogli e c'è come Mauro Canali chi propende più invece verso il fatto che Matteotti l'11 giugno avrebbe dovuto parlare in Parlamento era iscritto a parlare in Parlamento e avrebbe denunciato le connivenze tra la Sinclair Oil che era questa compagnia petrolifera americana che in realtà avrebbe fatto capo alla Standard Oil che era ancora più grossa alla quale il governo aveva concesso le esclusive di estrazione del petrolio in Emilia Romagna e in Sicilia se non ricordo male Emilia Romagna sicuramente in Sicilia non me lo ricordo e quindi è il sistema di corruzione in cui era stato coinvolto il fratello Arnaldo che era il capo del Popolo d'Italia nel suo giornale che era finanziato come sappiamo anche dalla famiglia Agnelli nei primi anni venti quindi come dire andava a toccare delle risorse che finanziavano la sua stampa e soprattutto avrebbe fatto un grande scandalo di corruzione quindi io penso che le due cose come poi alla fine anche Mauro Canali dice anche se propende più per la versione petrolifera stiano insieme d'altronde è un odio che parte dalla prima guerra mondiale perché Matteotti è considerato un antinazionale perché è contro la guerra e i fascisti uno dei capisaldi dell'ideologia fascista è l'esaltazione della guerra il patriottismo quindi come dire è un odio che parte da lontano l'abbiamo detto prima nel marzo 21 lo picchiano perché porta il caso del Polesine della violenza del Polesine in Parlamento e quindi gli agrari si vedono scoperti quindi i motivi sono tanti è difficile dire quale sia stato diciamo ci sono varie versioni poi anche rispetto all'omicidio qualcuno sostiene che sia stato un pestaggio finito male Dumini prima di scrivere il suo testamento americano in cui ammette perché attenzione fa tutta la differenza del mondo può essere condannato per un amicidio pretentenzionale o per un amicidio volontario quindi l'avversione che danno non è banale è fondamentale Dumini nella prima versione questo ardito milanese sostiene che abbia avuto un emotisi abbia avuto una emorragia interna Matteotti si è morto così che sia stato pestato sì e che questo pestaggio abbia dato vita a un'emorragia e quindi c'è stato sì l'uso della violenza ma non la volontà di uccidere noi sappiamo in questo Mauro ha fatto un lavoro incredibile perché ha saputo trasformare una fonte banale in una fonte invece indispensabile noi abbiamo i registri degli hotel in cui hanno soggiornato cioè Mauro li ha trovati straordinariamente in cui hanno soggiornato questi arditi milanesi ed erano arrivati a Roma già il 22 maggio quindi questo disinescherebbe la ragione del 30 che ci facevano il 22 maggio e soprattutto a Matteotti era stato sequestrato il passaporto come mai Tierschald è un'altra spia che lavora per la cieca austriaco come mai nel 24 nei primi di giugno improvvisamente se voi andate all'archivio di Stato vedete rifiutato rifiutato per mano di Mussolini rifiutato rifiutato lui voleva andare a vedere i suoi partecipare ai congressi socialisti svizzeri a un certo punto i primi di giugno gli lo danno e Matteotti non va perché capisce che lo vogliono far fuori quindi anche questi due elementi il fatto che già il 22 maggio ci sono i registri degli hotel in cui ci sono gli assassini e il passaporto fanno propendere che forse il 30 maggio abbia accelerato ma che il proposito di farlo fuori già ci fosse perché per un pestaggio tu non ti metti a pedinare dieci giorni prima e il ritrovamento del cadavere è funzionale al racconto è una messa in scena stile pur gestalmiano tutto deve essere come dire coerente e tornare tipico dei regimi totalitari mettere in scena la verità e far finta di crederci il ritrovamento del corpo consente intanto di non avere l'accusa di occultamento di cadavere che sarebbe stato ovviamente un aggravato lo ritrovano improvvisamente il brigadiere Pallavicini lo ritrovano nel bosco della quartarella lo fanno ritrovare il cadavere chiaro ormai decomposto perché si parla del 16 agosto quindi non si può capire anche con le autopsie non si riesce a capire si pensa che sia stato un coltello ma non si riesce a capire perché il corpo è stato anche malsepolto è stato mangiato una cosa abbastanza orrenda e quindi questo è questo è questo è assolutamente ma da questo punto di vista anche Mussolini era contro la massoneria erano tutte e due contro però era contro questa organizzazione criminale violenta parallela all'esercito e alla polizia cioè il fascismo aveva la cieca aveva la milizia volontaria che erano degli organismi paramilitari delle polizie private al servizio di un partito questo è che ovviamente rende quel regime un regime dittatoriale e quindi è la massoneria che c'entra c'entra o non c'entra no no si dice qualcuno insinua che Matteotti fosse massone ma non è mai risultato nella lista quindi noi storici non dobbiamo fare letteratura le fonti ci servono e quindi allo stato attuale delle fonti non abbiamo nessuna certezza su questo non lo so questa è una domanda una domanda non di storia quindi non le rispondo di sicuro ci sono dei richiami per esempio i sociologi delle comunicazioni stanno studiando i registri comunicativi la politica dell'inciviltà se la paragoniamo a quello che Matteotti denuncia in Parlamento è entrato in Parlamento un uomo lo nota con una grande sensibilità nota subito questa cosa è un politico straordinario è un uomo straordinario siamo davanti a un uomo straordinario non c'è non c'è dubbio non c'è non c'è non c'è dubbio grazie per le domande buonasera mi chiamo Maria Mazza intanto grazie per questo momento formativo io faccio una riflessione non so se è attinante quindi se dovessi andare fuori tema mi ha molto colpito diceva Matteotti una persona che ha puntato molto sul dialogo una persona pacifista una persona che credeva nella democrazia poi ha detto che bisogna fare memoria perché la memoria ci permette di vivere bene calandoci nell'attualità la mia riflessione è questa e vi chiedo scusa se vado fuori tema oggi si può dire che la politica ha perso la sua essenza punto interrogativo perché faccio questa domanda da ignoranti in materia vedo mi sembra di cogliere un'incapacità di dialogo e quasi mi sembra di vedere che più che politica ci siamo trasferiti in una realtà partitica dove ognuno passatemi il termine sembra tirare l'acqua al suo mulino e si dimentica quello che è il fondamento della nostra repubblica cioè ci sono dei cardini che sono alla base della nostra costituzione la solidarietà l'uguaglianza il principio di uguaglianza l'articolo 3 l'articolo 2 che ci parla di solidarietà diritti inviolabili doveri inderogabili il principio di fraternità che sta alla base della nostra carta costituzionale ma anche alla base della dichiarazione universale dei diritti umani l'articolo 1 allora io mi chiedo oggi alla luce di quelle che sono state le vicende dolorose del passato parliamo di Matteotti ma lei ha citato anche Aldo Moro e per me un altro maestro di dialogo ma anche Nelson Mandela che si è fatto 27 anni di carcere e dopo quando diventa primo presidente nero dice no alla lotta non violenta nella realtà attuale perché non si riesce a fermare la spirale di violenza perché nel mondo c'è ancora la guerra e non c'è un desiderio di costruire la pace e ancora scusate mi animo perché sono cose che mi appassionano e mi chiedo ancora perché anche purtroppo mi addolora il cuore quando vedo le risse quando non si dialoga dimenticando che come dire l'obiettivo deve essere il bene comune il bene comune ci dobbiamo sforzare a dialogare questo ci hanno insegnato i padri costituenti quindi le chiederei secondo lei che cosa si può fare oggi per ritornare al dialogo e per fare appassionare i politici a fare politica non qualcosa di partitico ma politica al servizio del bene comune grazie grazie che cosa fare non lo so io nel mio piccolo penso che pubblicare dei lavori su Matteotti significhi farci riflettere sulla centralità del luogo del confronto il Parlamento studiare Matteotti significa studiare il dialogo fuori ma anche dentro il Parlamento e il problema di cui lei parla nel nostro paese è particolarmente forte perché è una parola che lei non ha detto ne ha dette tante belle ma una è fondamentale pluralismo e questo è un grande problema perché anche il fascismo ha fatto questo danno si è identificato con lo Stato e tutti quelli che non erano fascisti erano antinazionali purtroppo e non sto istituendo un paragone tra la democrazia cristiana e il fascismo ma nel metodo nel modo di considerare gli avversari politici il fascismo ha lasciato questa eredità non so se è chiaro cioè anche la democrazia cristiana per certi aspetti ha impedito un ricambio una dialettica un'alternanza no? e infatti poi abbiamo visto che è successo il primo presidente non democristiano è Spadolini nell'80 nell'81 no? quindi noi abbiamo un problema con il pluralismo e Aldo Moro non è un caso che quando il sistema politico italiano si sta trasformando nel senso che i comunisti che non erano mai stati al governo se non con i governi internazionale post liberazione durante la guerra pensiamo al governo Parri fino a 1947 no? poi vengono buttati fuori da De Gasperi che al diktat americano se volete i soldi del piano marcia devi far fuori la sinistra ma entriamo nel clima nella guerra fredda però per quanto riguarda casa nostra noi abbiamo questo grosso problema dell'identificazione del partito salvatore con lo Stato e tutti quelli che non sono il partito salvatore sono fuori il fascismo pensava così con la violenza la democrazia cristiana no con la violenza ma l'atteggiamento poco inclusivo ha continuato quindi e si è spezzato solo pensate alla presidenza di vigilanza della RAI il primo è Taradash con il governo Berlusconi prima sono tutti i presidenti democristiani quindi noi col pluralismo abbiamo un problema storico non voglio fare dell'eccezionalismo italiano però su queste cose un po' sì quindi il problema che abbiamo noi è questo perché l'avversario politico è un nemico politico e infatti sono così diffidente che solo io posso avere il potere politico perché io sono il bene della nazione questo è un'identificazione che comincia con il fascismo quindi è una radice storica profonda quindi dove è facile trovare soluzioni a questo non siamo allenati a questo a questa alternanza quindi io penso che sia un problema storico profondo matta grazie grazie